Primo giorno di arancione, Zai avverte, la curva dei contagi non è in discesa, si ha le riaperture ma devono essere graduali, arrivo ancora a singhiozzo per i vaccini. A Roma la manifestazione Io apro con ristoratori, ambulanti e titolari di palestre, nutrita la presenza dei Veneti, momenti di alta tensione con le forze dell'ordine. Zona arancione, la riapertura di negozi e centri estetici, da una parte il sollievo, dall'altra il timore di nuove chiusure, l'attacco di Confcommercio Veneto, ora basta, bisogna convivere con il virus. Scuola da domani, tutti di nuovo in classe, per gli studenti delle superiori la presenza al 50%, la regione mette in campo 487 mezzi di trasporto aggiuntivi e un totale di 1573 corse in più. Ieri in piazza Belluno quasi 500 persone da tutto il Veneto per il no paura dei, assembramenti e no mascherine, scattano le multe, il sindaco inadeguato e poco intelligente. Vendevano auto pregiate a prezzi vantaggiosi e poi non le consegnavano, dal Rodigino alla Marca 18 persone indagate, 10 gli arrestati. Falsi testamenti per intascare le eredità, colpito anche a Castelfranco, Nogara e Vicenza, la cosiddetta banda dei testamenti scoperta dall'inchiesta della Procura di Milano. 6 avvisi di garanzia per altrettanti cittadini calabresi. Eccoci in diretta, buonasera, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque da queste prime riaperture scattate con la zona arancione, riaprire ma con gradualità, dice il presidente Zaia, secondo cui bisogna tenere alta l'attenzione. Nel punto stampa di oggi ha poi parlato di vaccini con i nuovi rallentamenti, questa settimana non arriveranno né fiale di Moderna né di AstraZeneca. Veneto in zona arancione, ma attenzione spiega Zaia, non abbiamo ancora imboccato la via della discesa nelle curve, si registrano dei cali ma anche delle riprese. Il decreto prevede fino al 30 aprile zona rossa e zona arancione. Qualora le condizioni epidemiologiche consentissero di reintrodurre le altre fasce, c'è la possibilità di farlo. Sul modello dei 21 parametri il governatore è chiaro, diventa giorno dopo giorno sempre più anacronistico, perché costruito in un momento nel quale non esisteva una diagnostica e delle cure come facciamo oggi. Dico semplicemente che ci vorrà il buon senso di sapere dosare la voglia che abbiamo tutti di aprire con quella che è di preservare la salute dei nostri cittadini. Penso che la verità stia nel mezzo, non stia né dalla parte dei liberi tutti, ma tantomeno dalla parte di chi dice che bisogna restare chiusi tutti. Penso che comunque ci voglia una gradualità. Comunque giovedì annuncia, incontreremo il Presidente del Consiglio, bisognerà trovare un equilibrio tra la voglia di riaprire la valutazione del pericolo dell'epidemia. Sul fronte vaccini l'ennesimo rallentamento. Questa settimana arriva solo Pfizer, non arriva né Moderna né AstraZeneca. Quindi sono arrivate, noi abbiamo previsioni solo di queste 125.000 di Pfizer. Restano le dosi avanzate. Voglio dirvi solo che abbiamo 39.547 Moderna e 99.429 AstraZeneca. In totale stamattina l'apertura dei cancelli, per dire, avevamo 132.371 dosi. Intanto a livello internazionale tiene banco il caso AstraZeneca, che potrebbe sparigliare di nuovo le carte in tavola. Sulle trombosi post vaccino, ulteriori approfondimenti fanno dire ad EMA, Agenzia Europea per il Farmaco, che il nesso esiste, anche se non è chiaro quale sia il meccanismo. L'Italia sta valutando limiti di età per la somministrazione, ma non per il richiamo, mentre il Ministro Speranza è pronto a rivedere le categorie. Velocizzare la campagna vaccinale significa anche trovare il maggior numero di personale per farle. Zaia torna sulla polemica nata dalle sue parole. Non ci vuole una laurea per fare le iniezioni e ribadisce il concetto. Vi dico la verità proprio perché siamo tra quattro amici e nessuno ci ascolta. Io avevo anche pensato di presentarmi al centro vaccinale a fare le iniezioni. Però poi ho pensato, ho una laurea, smentisco me stesso o no? Ma comunque se mi arruolassero a fare le iniezioni andrei, mi piace anche. Così dunque oggi il Presidente Zaia. Con la zona arancione riaprono negozi e attività. Da domani tornano in classe bambini e ragazzi. Riaprire tutto insieme alle scuole? Allora vi chiediamo, questo è il quesito del sondaggio di questa sera. Cosa ne pensate? A questo punto insieme alle scuole andrebbe riaperto tutto quanto? Per rispondere sì, 0422 1626 691. Per rispondere no, 0422 1626 690. Come sempre l'esito di questo sondaggio che vi lanciamo nel corso dei nostri telegiornali questa sera in diretta a Ring che parte alle 21.15 su Antenna 3. C'erano anche diversi piccoli imprenditori veneti oggi a Roma per la protesta davanti a Montecitorio durante la quale si sono registrati momenti di tensione con le forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa. Durante i disordini alcuni poliziotti sono rimasti levemente feriti dal lancio delle bottigliette. Uno di questi è stato medicato sul posto prima di essere trasportato in ospedale. A manifestare sono stati in particolare operatori del fitness e ristoratori tra le categorie più colpite dalle restrizioni che hanno chiesto sostegni reali e riapertura immediata delle attività. Ci sono stati momenti di tensione che non sono dipesi dall'organizzazione spiega Iuri della palestra Dorian Gray di Maser tra i promotori dell'iniziativa siamo comunque esasperati così non si va avanti le istituzioni devono capirlo. Questo è il report che ci arriva dal partecipante trevigiano a questa manifestazione. Lo sfogo in diretta sulla nostra emittente ma poi anche duri comunicati affidati a intere pagine dei giornali nel giorno del ritorno in zona arancione la Conf Commercio Veneto ammonisce il governo mai più chiusure occorre velocizzare la campagna di vaccinazione. Superare la strategia delle chiusure devastante per il settore del commercio imparare a convivere con il virus e soprattutto vaccinare. Nel giorno in cui il Veneto ritorna zona arancione e si rialzano le serrande dei negozi la Conf Commercio regionale rivolge un appello duro alle istituzioni lo fa attraverso i mezzi di comunicazione, televisione e stampa per dire a nome delle 292.000 imprese del terziario che con questo virus bisogna imparare a convivere stop all'altalena delle chiusure forzate. Penso che sia sotto gli occhi di tutti che ormai le nostre imprese sono al collasso non hanno più neanche la possibilità né economica ma anche psicologica di poter andare avanti in queste condizioni sfido qualsiasi imprenditore a resistere quindi io spero e confido che non fino a fine aprile ma prima che se questa curva comincia ad abbassare venga liberato gradualmente qualche attività è necessario perché ormai dobbiamo renderci conto che con questo virus dobbiamo convivere. L'uscita dalla zona rossa non migliora la condizione di bar e ristoranti ricorda il presidente Bertin. Ma soprattutto noi puntiamo su una cosa vaccinare, vaccinare, vaccinare. Altre strade non ce ne sono, ribadisce riferendosi alle promesse deluse di un sostegno economico da parte del governo. Non parliamo neanche più di ristori, di sussidi perché chiaramente queste soluzioni si sono dimostrate poco incisive e potrei aggiungere anche quasi disastrose. Occorre, conclude, immunizzare velocemente la popolazione e tornare a vivere. Altri paesi che stanno correndo molto più veloci di noi stanno già pensando al passaporto sanitario per potersi muovere. Noi invece siamo ancora al palo, bloccati e non sappiamo ancora quando riusciremo a vaccinare la nostra popolazione. Questa è la grande vergogna di questo paese. Abbiamo sentito dunque che molti restano ancora chiusi in particolare bar e ristoranti. Andiamo a Padova per vedere le serrande che invece hanno potuto rialzarsi. Complice il maltempo che nella mattinata ha colpito la città di Padova il primo martedì, dal retro gusto di lunedì, di zona arancione non ha spinto molti padovani in centro. Le luci dei negozi tornano ad accendersi dopo tre settimane di zona rossa in cui la gran parte delle attività sono rimaste chiuse. È andata bene, diciamo che ho avuto fortuna di aprire subito e di fare una vendita. Sono contento e speriamo che continui così. Io penso di sì. La gente ha voglia, secondo me, di ricominciare ad acquistare non solo online ma anche nel negozio fisico. Speriamo che continui così, insomma. La voglia di riprendere a lavorare è molta da parte di chi è stato obbligato a casa. Felicissimi ovviamente, non se ne poteva più, dunque siamo felici e stiamo aspettando che si ricominci un attimino a vedere un po' di gente in giro. Ecco, si spera che da zona arancione si passi da zona già là quanto prima. Queste settimane di zona rossa però hanno sollevato anche molte polemiche per i paradossi che si sono andati a creare. Le chiusure che hanno colpito alcuni e risparmiato altri. Qui erano aperti i negozi di intimo e quelli comunque per bambini che alla fine nel senso sì, ok, che è di prima necessità però comunque come anche là si forma l'assembramento comunque che va gente non vedo perché noi dobbiamo diciamo chiudere. Mercoledì mattina intanto ci sarà una mobilitazione nazionale degli associati di confesercenti. A Padova manifesteranno davanti alla prefettura in piazza Antenore per chiedere che i ristori arrivino e non siano elemosine. Così, dice Nicola Rossi o vengono accreditati rimborsi effettivi o il rischio che molte attività chiudano è reale. Chi è ripartito invece senza nessun problema anzi sono parrucchieri ed estetiste già tutto esaurito siamo andati a Bassano in questo caso a vedere come è andata in questa prima giornata di lavoro. Primo giorno di riapertura per parrucchieri ed estetisti un piccolo passo verso quella che tutti noi ci auguriamo possa essere una normalità riconquistata. Vediamo insieme come hanno risposto a questa riapertura i bassanesi. I clienti sono contenti della nostra riapertura sia i clienti per l'estetica e quelli per la parrucchiera. Il salone si ricomincia con grinta. Parrucchiere ed estetiste sono attività che devono essere considerate come di prima necessità? Secondo me sì. Il cliente ha proprio bisogno di uscire di casa e di avere questo di vedersi diversa più bella anche sia a livello maschile che a livello femminile. Diciamo che la risposta è stata positiva il primo giorno il telefono suona molto abbondantemente e questa è una cosa importante insomma. E' anche un disagio per il personale che è dovuto rimanere a casa per tre settimane ma adesso sono già allenati quindi partono bene anche a lavorare. Io ho già detto venerdì quando Zaia ha ufficializzato il fatto che oggi entravamo in zona arancione ha iniziato a suonare il telefono per cui erano quasi tutti contenti. Io sono sold out fino alla settimana prossima per cui questo vuol dire che il barbiere parrucchiere ed estetista è un bene di prima necessità e in questi momenti il vedersi bene davanti allo specchio si risolleva sia di umore che anche di salute. E poi c'è il fronte delle scuole da domani tutti di nuovo in classe anche per gli studenti delle superiori naturalmente si manterrà la formula della presenza al 50% l'ennesima ripartenza con la speranza più che la convinzione di arrivare a fine anno senza altri stop. la regione ha messo in campo 487 mezzi di trasporto aggiuntivi per un totale di 1573 corse in più. Si può dire con una battuta che non abbiamo mai smesso di ripartire quest'anno e non ricordo neanche il numero delle partenze false partenze o reset completi che abbiamo avuto. Antonia Piva dirigente del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso sintetizza il pensiero di tanti dirigenti in questa vigilia di rientro in classe dopo tre settimane di stop che accomuna questa volta tutti quanti dai bambini delle scuole dell'infanzia agli alunni elementari e medie fino ai ragazzi più grandi 110.000 gli studenti trevigiani tra cui 40.000 delle superiori per i quali rimane la presenza al 50% noi abbiamo preferito non dimezzare la classe ma dimezzare il numero complessivo degli studenti e il numero delle classi perché questo? Perché la classe è una vera unità pensante non è soltanto una somma di studenti domani parte la settimana nella quale saranno privilegiate direi le due fasce più importanti di studenti cioè le matricole di prima che hanno tanto bisogno di normalità ma anche gli studenti delle quinte classi gli altri rimangono per una settimana in DAD come ulteriore misura chi si recca a scuola ha ingressi e uscite scaglionati qui dice la preside non ci sono stati i focolai non è la scuola il luogo del contagio ma potrebbe essere il luogo della duplicazione portata da fuori situazioni di socialità non controllata o altro il piano della prefettura per la scuola in sicurezza concordato con l'ufficio scolastico provinciale è stato confermato MOM sul fronte trasporti è pronta e da domani la biglietteria centrale di Terviso sarà aperta tutti i giorni dalle 7 alle 19 per consentire ai ragazzi di rinnovare o acquistare l'abbonamento dell'autobus sperando questa volta di arrivare dritti alla fine dell'anno scolastico il cuore dice sì la ragione dice andiamo un attimo calmi non possiamo sbilanciarci ma come diceva Pascal il cuore ha ragioni che la ragione non conosce quasi 500 persone ieri pomeriggio in piazza dei martiri alla manifestazione No Paura a Dei siamo a Belluno il 10% sanzionati perché senza mascherina non sono contro la libertà di espressione afferma oggi il sindaco Massaro ma la scelta di farlo senza mascherina e con assembramento non è stato né adeguato né intelligente ma la paura una sociologa un avvocato un giornalista indipendente relatori da un palchetto in mezzo al passeggio fra Porta Dante e il Liston per discettare senza contraddittorio di paura di ipnosi di massa e dei danni provocati dalla stampa al soldo del potere fra le 500 persone assiepate per l'evento chiamato No Paura Day un buon 10% è tornato a casa con una sanzione elevata dalle forze dell'ordine a norma di legge sono state sanzionate circa 40 persone però non escludiamo alla luce anche degli stessi filmati che sono pubblicati sui social network che si possano identificare anche altre persone che hanno contravvenuto alle norme che sono attualmente in vigore ricordiamo che fino a ieri anche la provincia di Belluno era in zona rossa e hanno protestato molto ritenendo che ovviamente queste normative non siano adeguate al loro pensiero però insomma le normative sono in vigore quindi noi siamo tenuti a farle rispettare regolare la manifestazione così come gli spostamenti in virtù di una circolare ministeriale chi è stato sanzionato perché senza mascherina non ha mancato di esprimere il proprio dissenso non è ammissibile come è successo prima che arrivaste tutti voi a essere schedati fotografati questa è la chiosa dell'avvocato bellunese Andrea Colle che ha presentato il ricorso al giudice del lavoro per 10 operatori sociosanitari delle case di riposo di Belluno e Sedico che non vaccinati temevano di essere licenziati stiamo parlando comunque di una libertà di trattamento sanitario che uno deve poter rifiutare erano idonei fino a prima il no paura dei ha partiti con le intenzioni acceso il dibattito al di là dell'autorizzazione la manifestazione ha suscitato sdegno tra chi continua ad attenersi alle regole chiunque può andare a manifestare può essere nel proprio pensiero non ho trovato sicuramente né adeguata né intelligente la scelta di farlo con un assembramento e senza mascherine almeno da quello che ho visto in alcune foto o alcuni video che sono circolati sul web proprio nel momento in cui tutti noi stiamo facendo degli sforzi enormi anche dal punto di vista economico e anche dal punto di vista della nostra serenità per uscire da questa situazione ora una notizia giunta da poco perché per quanto riguarda il report consueto della regione sui contagi da covid quello del pomeriggio delle 18 è stato di fatto annullato dalla regione a quanto pare non sarebbe stato attendibile perché un laboratorio privato avrebbe inserito i dati di un'altra regione e quindi il bollettino di questa sera alle 18 sottoslitta necessariamente a domani mattina così ci spiegano dalla regione veniamo ora alla cronaca vendevano auto pregiate a prezzi vantaggiosi e poi non le consegnavano la procura di Rovigo ha indagato 18 persone per truffa e associazione per delinquere il GIP ha emesso un'ordinanza che prevede la custodia cautelare in carcere per 10 degli indagati per un altro gli arresti domiciliari è stato anche disposto il sequestro di 13 conti correnti e di beni per 700 mila euro le vittime sono diverse decine per un danno economico stimato in 600 mila euro al vertice dell'organizzazione una coppia di Treviso un uomo di Jesolo e l'ex venditore di un'attività di Occhio Bello da dove è scattata poi partita l'indagine l'anno chiamata operazione NICI la polizia postale scopre una maxifrode informatica in tutto il nord Italia l'inchiesta partita anche in questo caso dalla marca trevigiane un sistema complesso ma estremamente efficace accedevano abusivamente alle email utilizzate dalle aziende durante le transazioni commerciali per spiare tutta la corrispondenza e mettere in pratica frodi informatiche nel nord Italia la polizia postale è riuscita a scoprire il meccanismo denunciando 12 persone un gruppo criminale composto da cittadini nigeriani l'indagine è partita da Treviso lo scorso settembre da un'azienda del terziario per il mancato pagamento di alcune fatture emesse nei confronti di una società indonesiana le somme frodate per un importo di circa 155 mila euro invece che finire sul conto corrente della parte offesa venivano dilottate verso conti correnti aperti appositamente dalla associazione criminale l'inganno scoperto dagli specialisti della polizia postale di Treviso è consistito nell'accedere con sofisticate strategie informatiche a un indirizzo di posta elettronica aziendale e dopo un'accurata opera di riprogrammazione delle impostazioni i cybercriminali si sono sostituiti all'azienda denunciante e al momento del pagamento delle fatture hanno invitato la partner commerciale indonesiana a effettuare i pagamenti su conti correnti bancari appositamente creati per impossessarsi del bottino e ha colpito anche a Castelfranco e Nogara la cosiddetta banda dei testamenti scoperta dall'inchiesta della procura di Milano con falsi testamenti per intascare le eredità se gli avvisi di garanzia per altrettanti cittadini calabresi riuscendo a individuare defunti proprietari di patrimoni sostanziosi deceduti senza eredi gli indagati presentavano alla curatela ereditaria un testamento redatto presso un notaio americano inesistente da cui si facevano nominare legittimi eredi uno dei curatori ha avuto qualche dubbio e così la truffa è venuta a galla a cominciare da due casi sospetti dei quali uno in provincia di Vicenza come emerge dagli atti dell'inchiesta però anche la provincia di Treviso sarebbe interessata dalla maxitruffa un caso è stato segnalato a Castelfranco Veneto oltre a Nogara siamo in provincia di Verona e a Daviano in provincia di Pordenone la squadra mobile di Padova invece sta chiudendo il cerchio attorno ai responsabili del vile atto vandalico al cimitero dell'Arcella minorenni ragazzini conosciuti che bazzicano il quartiere la banda che la notte di sabato santo ha devastato il cimitero dell'Arcella avrebbe le ore contate le indagini della squadra mobile di Padova non si sono fermate in questi giorni di festa e i poliziotti oltre ad alcuni fotogrammi delle telecamere di video sorveglianza scampate al raid hanno acquisito anche altri importanti elementi che incastrerebbero il gruppo di vandali sono tre al massimo quattro ragazzi adolescenti tutti minorenni frequentano la zona e conoscono bene l'area del parco Milcovice della polisportiva danneggiata dopo l'irruzione al cimitero e utilizzata dalla banda per ripulirsi del fango e del sangue per loro si prospettano accuse pesanti danneggiamenti con l'aggravante dei delitti contro la pietà dei defunti e anche vilipendio di sepolcro le immagini del cimitero vandalizzato a Padova hanno scosso la comunità lapidi spezzate croce sradicate sporche di sangue i vetri delle cappelle sbriciolati sotto la furia dei colpi i fiori strappati hanno calpestato senza pietà le tombe e i sentimenti dei familiari il sindaco di Padova in una nota chiede che i responsabili paghino non solo penalmente ma anche economicamente risarcendo i danni anche le famiglie di questi ragazzi dovranno fare i conti e spiegare come mai i figli minorenni erano fuori casa violando il coprifuoco imposto dalle norme anti-covid nei giorni in cui si era in piena zona rossa cambiamo decisamente tema parliamo invece di matrimoni perché la pandemia frena a quanto pare le unioni le nozze a Cornedo Vicentino a Pasquetta la prima cerimonia del 2021 ma non ci sono altre prenotazioni 2021 matrimoni sospesi in attesa che l'emergenza pandemia passi per poter poi festeggiare con parenti e amici come si faceva una volta solo un anno e mezzo fa eppure c'è chi ha scelto di sfidare il virus e nel rispetto delle misure di contenimento ha deciso di convolare a nozze siamo a Cornedo Vicentino e loro sono Massimo e Laura dopo 17 anni di convivenza hanno deciso per il sì è da tanto tempo che ci lavoravamo attorno e quindi dopo un po' avevamo una cosa tranquilla proprio e spero che sì che funzioni tutto bene auguro anche altre persone di fare il stesso passo non pensavamo di essere i primi effettivamente l'abbiamo saputo oggi sì è stata un po' una novità e ci ha lasciato un po' così comunque felici eh già quello di Laura e Massimo è il primo matrimonio celebrato dall'inizio del 2021 in municipio Cornedo Vicentino per il momento è l'unico matrimonio prenotato tra virgolette e speriamo che con la campagna vaccinale e con la ripresa di tutte le attività speriamo che anche giovani e meno giovani abbiano voglia di sposarsi e di iniziare una vita insieme emozionati ma felici Laura in abito bianco corto e Massimo in completo blu si sono giurati fedeltà per sempre davanti al primo cittadino di Cornedo e due testimoni una cerimonia semplice in questi tempi difficili ma che si confida ad auspicio per il futuro è un piacere vedere che esistono ancora segnali di speranza e di ripresa e il matrimonio è uno di questi gesti penso il più bello che si possa fare in questo periodo di pandemia e di emergenza vi ricordiamo che il Banco Solidale dell'Associazione Veneti schiacciati dalla crisi e di Rete Veneta a Sant'Artemio sede della provincia di Treviso è aperto e accessibile come sempre il mercoledì per consentire alle centinaia di famiglie bisognose che ogni settimana vi si recano di ritirare la borsa della spesa anche in zona arancione quindi Banco Solidale in via Caldibreda aperto e accessibile il mercoledì alle 9.17 con orario continuato sempre possibile dunque raggiungerlo anche da fuori comune trattandosi di una motivazione di necessità questa sera torna Ring dalle 21.15 in diretta su Antenna 3 ospiti del nostro Ferdinando Abarino saranno Manuela Lanzarina assessore alla sanità del Veneto Elena Donazzana assessore all'istruzione e al lavoro del Veneto Giacomo Possamai del Partito Democratico Vincenzo Marinese presidente di Confindustria Venezia Rovigo Federico Capraro presidente dell'Ascom Confcommercio di Treviso e Marco Bonnet giornalista del Corriere del Veneto è tutto per questa sera grazie per averci seguito tra poco l'edizione di Venezia ora vi lascio alle previsioni del tempo per domani arrivederci ben trovati al meteo pressione atmosferica in aumento dunque tempo più stabile ma correnti scandinave irrompono sull'Italia provocando un crollo termico che abbiamo già iniziato a percepire a dire il vero nei giorni scorsi vediamo allora il dettaglio sul Veneto la grafica di mercoledì 7 aprile mostra un ampio soleggiamento sulla nostra regione precipitazioni assenti il cielo sarà poco nuvoloso salvo per qualche addensamento irregolare venti ancora moderati dai quadranti occidentali temperature in graduale diminuzione minime tra meno 3 e 3 gradi valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 13 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove sarà un mercoledì all'insegna del bel tempo come vediamo con tanto sole dappertutto e cielo poco nuvoloso temperature minime tra lo 0 e 1 grado massime sui 10-12 gradi e sarà soleggiato ovunque anche sul Trentino Alto Adige qualche spruzzata di neve a bassa quota sui confini alpini temperature minime intorno a 1 grado massime sui 9-11 gradi dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione e arrivederci grazie